benvenuti benvenuti cari amici siamo qui di questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di distruggere il like, iscrivervi il canale, iscrivervi anche il canale di telegram andiamo a vedere quelli che sono i top gainers di giornata zilica più 9,8% ave più 7,3% quindi in generale abbiamo visto un piccolo dump da parte di bitcoin che oggi perde circa l'1% e le alco in questo momento stanno leggermente sotto performando rispetto a bit ma dal mio punto di vista è in arrivo letteralmente un alco in season andremo a vederlo perché sul settimanale alco in che mediamente stanno performando bitcoin vediamo ad esempio maker più 46,4% e compound col più 45,9% ora andiamo a vedere quello che sta avvenendo su bitcoin perché è proprio bitcoin che ci darà letteralmente una direttiva di quello che potrebbe avvenire sulle alco in in questo momento siamo a 30.759 dollari market cap di 597 miliardi e volumi in questo momento per 10,8 miliardi addirittura o meno 32% rispetto a ieri e cosa sta comportando questa diminuzione in volumi? in sostanza sta comportando quello che è una letteralizzazione di bitcoin in questo preciso momento e attenzione perché storicamente quando abbiamo visto una letteralizzazione su bitcoin poi c'è stato letteralmente un pampone da parte delle alco in vi ricordo che mediamente un alco in season può durare 2-3 settimane quindi nel caso continuasse che questa letteralizzazione potremmo poi vedere letteralmente una rotazione di capitali verso le alco inizio andiamo a vedere anche quello che ci dice in particolare mustache che addirittura lui aveva previsto tra virgolette questa dip ok da parte bitcoin lui dice che avrebbe per l'appunto raggiunto i 15.500 dollari e ora dai suoi punti di vista potremmo addirittura raggiungere i 40.000 dollari io direi SNI nel senso sì li possiamo prendere però attenzione perché siamo già tra virgolette in una fase uforica primo elemento e la fase uforica proprio potrebbe concludersi e raggiungere il suo oltamai di fase uforica proprio con questa rotazione di capitali da parte sulle alco in poi c'è chi aveva appunto previsto questo Wyckoff model Max che per l'appunto afferma che in seguito che il raggiungimento di 15.500 dollari vi ricordo il tweet del 18 novembre 2022 questo qua quindi molto interessante da qui si sarebbe poi sprigionata una forza rialzista che lui afferma addirittura avrebbe potuto comportare un raggiungimento del prezzo bitcoin addirittura in zona 56.000 dollari vedremo se effettivamente sarà così ad oggi sembra fantascienza quello che ci dice anche come psicologia di investitore ora siamo ancora nella fase della miscredenza cioè molti dicono ma secondo noi torneremo giù è proprio più andiamo su più poi le persone penseranno che si potrà andare ancora più su ed è lì ok che bisogna avere una strategia è lì che bisogna strutturarsi ok completamente perché più andiamo su più il tutto inizia a diventare letteralmente pericoloso poi andiamo a vedere quello che sta dicendo anche il capo of crypto che lui dice ancora short è bello forte lui ribadisce ok quella che è la sua idea secondo lui torneremo letteralmente giù giusto per darvi anche una visione di altri e ora vi vado a dire quella che è la mia in questo momento siamo andati a prendere quella che è la total market cap a 1.16 trillions siamo proprio sulla resistenza essere un pessimo secondo me target massimo può essere quello di 1.15 trillions come potete vedere io ho messo letteralmente la banda rossa ok banda rossa che cosa significa dal mio punto di vista che inizia la fase tributa pericolosa sarebbe un ulteriore 30% un 30% medio che potrebbe comportare su bitcoin anche l'aggiungimento di 39 mila dollari che è un target più che fattibile e soprattutto ok sulle alcoin perché se poi parti i capitali bitcoin vanno a ruotare sulle alcoin capite che le alcoin possono fare veramente numeri pazzeschi dopodiché indizi per quanto riguarda una potenziale del coin season secondo me ci arrivano tutti iniziano ad esserci sempre più indizi sui 90 giorni siamo a livello di 14 come potete vedere mensile siamo a livello di 10 e annuale siamo a un livello di 18 quindi potenzialmente potremmo avere una del coin season anche da qui a breve secondo elemento la total 2 molto bassa vi ricordo abbiamo supporto sulla total 2 di 427 miliardi lì praticamente sembrerebbe essere la top entrata tra tutte quelle possibili ma soprattutto vorrei farvi vedere quella che è la resistenza al momento troviamo la resistenza sui 700 miliardi quindi circa un ulteriore medio ok 20% potrebbe comportare il raggiungimento di questi livelli vi ricordo che il raggiungimento di questi livelli lo potremmo riavere però con un livello di bitcoin molto più alto perché al 15 agosto 2022 se andiamo a vedere quello che era il prezzo di bitcoin lo vado a vedere immediatamente ok ovviamente se lo trovo 15 agosto 2022 ora non lo dà però stavamo in zona ok ve lo dico io sui 20 mila dollari ok e ora invece siamo a zona 30 mila dollari quindi qual è la differenza rispetto ad oggi abbiamo bitcoin che capitalizza il 50% in più da allora però abbiamo le alcoli che capitalizzano praticamente la metà in meno quindi è probabile che arrivi proprio una dotazione sulle alcoli da parte dei capitali di bitcoin poi noi ovviamente all'interno del gruppo cowboy ho già giustato quella che è la mia strategia se vuoi entrare anche tu all'interno del gruppo cowboy ti ricordo che c'è una selezione all'entrata e ovviamente devi prenotare anche quella che la tocco è gratuita trovi sotto il link in descrizione dopodiché andiamo a vedere quello che sta avvenendo ok in questo momento anche sulle alcoins un secondo elemento scusate terzo elemento è il seguente che ci c'è proprio moustache abbiamo avuto un bottom in particolare sui 427 miliardi qui segna 390 ma a dire la verità è 427 miliardi e se si ripetesse ok quello che è avvenuto post 2017 quindi in questo caso post 2021 potremmo rivedere nuovamente un rally da parte di delle alcoin ok ovviamente nessuno sa i target che possiamo andare a prendere però vi ricordo che il top ok del 2 era pari a 1.5 trillion e secondo me in futuro andremo di gran lunga a performarlo quindi questa sembra una zona accumulo zona accumulo che abbiamo avuto già nel 2019 e secondo me risulta essere identica poi ovvio più alcoin verranno cognate più sarà difficile fare gain però secondo me mediamente tutte le alcoin stanno letteralmente per partire quindi un mini rally potenzialmente possiamo averlo poi un altro indizio è seguente perché sembra che la bitcoin dominance abbia raggiunto un top sui 52 di bitcoin dominance come possiamo vedere siamo sopra in media a 20 a 50 a 100 a 200 e da qui dovremmo letteralmente scendere vi ricordo addirittura media a 200 che sta sui 46.88 quindi potenzialmente questo è un target raggiungibile a parte del coin season scusate la bitcoin dominance e addirittura secondo me bitcoin potrebbe scusate la bitcoin dominance potrebbe letteralmente ancora più andare giù quindi zona anche 39 potrebbe essere molto ma molto interessante andiamo a vedere anche quelli che sono i top gainers di giornata sui quali vorrei andarmi concentrare in particolare troviamo Zillica col più 10.44% engine 6.48% ave più 6.39% e in particolare a me Zillica proprio sul daily sta interessando in ottica trade perché abbiamo 383 milioni volumi per 81 milioni in questo momento quindi un più 185% di volumi e ragazzi cosa ci sono questi alti volumi? io vi lo dico vado letteralmente a tradare ovviamente dovete sapere quello che fate ma secondo me è molto interessante il tutto tra l'altro Zillica che proprio stava in zona supporto guardate qui zona di 1 centesimo e 3 ora sta a 2.4 è anche qui molto interessante secondo me andare a sfruttare questa move anche potenzialmente sui 3 centesimi e 7 ovviamente non sono né così finanziati né così tren però io penso che Zillica essendo anche una coin storica sia molto interessante in questo momento poi dove sto trovando io Zillica? lo sto trovando su Binx trovi sotto link in descrizione avrai 20% di sconto sui train fees ti ricordo Binx uno dei miei punti di vista exchange più sicuri o che tra quelli esistenti e anche più economici per quanto riguarda le fees infine andiamo a chiudere con Pepe Shiba Inu coin che ovviamente io monitoro sempre market cap in questo momento di Pepe di 677 milioni a fronte in prezzo nominale di 1730 con volumi in questo momento per 132 milioni quindi volumi che si riabbassano però avere questi volumi bassi con un valore nominale rigolette così alto secondo me è molto interessante ok per Pepe parlavamo di questa resistenza sui 1920 resistenza tra l'altro colpita e ora potremmo per l'appunto muoverci all'interno di questo training range quindi potenzialmente il training range potrebbe essere quello tra i 1920 e i 860 ovviamente io andrò a comunicare all'interno del capo quello che andrò a fare su Pepe soprattutto quella che è la mia strategia ok su Pepe infine andiamo a chiudere con Shiba Inu Shiba Inu più 0.47% su giornaliero prezzo nominale di 772 e come più volte detto e rivadito Scremeshiba ha buone probabilità di andare a riprendere quello che è il target ok dei 1000 come primo elemento però ovviamente noi stiamo a guardare anche quella che è la zona ok a lungo termine la zona a lungo termine che per quest'alco in season potenzialmente potrebbe essere nuovamente quella dei 1400 ok e ovviamente per quanto riguarda da qui alla prossima buran secondo me Shiba ha buone possibilità anche di andare a rompere quello che lui da male quindi per ora training range all'interno di 1000 zona 1000 anche 1500 dipende per i più avventurosi dipende quante dotazioni avete di Shiba Inu e ovviamente ti ricordo che se anche tu vuoi migliorare quelle che sono le tue conoscenze del mondo cripto ma soprattutto iniziare a strutturare una strategia perché ragazzi io veramente vedo tantissima gente che letteralmente ancora ha una strategia poi per notare la tua qualgraduita trovi sotto il link in descrizione e ovviamente ti andrò a registrare quello che è il protocollo del cripto e per questo se ti è piaciuto questo video ti ricordo di di suggerire di like di iscrivervi al canale e noi ci vediamo presto hasta la vista ombre